Salve a tutti ragazzi, bentornati su Quaid, sui server trash con Sekiro Shadows Die Twice e siamo al cospetto di nostro padre, che non è morto a quanto pare. Padre, non sapevo che fossi ancora vivo. Era il mio piano, ma lo stesso vale per te. Ero certo che fossi morto quella notte. L'erede divino mi ha riportato in vita col suo potere. Ecco. Cosa? Il potere dell'erede divino, il sangue del drago, deve essere mio. Padre. Ora capisci anche tu. Ricorda la prima regola del codice. Sono tuo padre. Ti ordino di abbandonare il tuo signore. Da questo momento non è più tale. Rinnegare l'erede divino. Ascoltami, lupo. Obedisci al comando di tuo padre e abbandona l'erede divino. Io sto con Kuro. Non posso fare come chiedi. Tu che cosa? Uno shinobi che mostra compassione? Impensabile. Che spettacolo pietoso. Perché, ragazzo? Perché non riesci a capire il volere di tuo padre? Hai forse scordato il codice degli shinobi? Siamo noi a scrivere le nostre regole. Ed è quello che farò. Proprio come il mio signore. Che spettacolo pietoso. Cresciuto, anche se è di poco. Di poco, ha detto. O te lo do io il cresciuto di poco? Giovane lupo. Brutto troione che non è altro. Vieni qua, più mi distruieni qua. Silenzio. Vada un po' che non lo facevamo. Impegnati. Vieni qua, più mi distruieni qua. No! Mi ha preso con il sacchetto di me Vabbè Tanto Comunque il mio scopo è non farmi colpire Quindi Puoi se non posso usare le pozioni Mi spinge ad essere ancora Ancora più preciso nelle azioni Ah! Madonna che bello che ho sbloccato la deviazione a mezz'aria Avete visto quanto mi ha salvato il culo lì? Ok, vi faccio ricaricare la postura Ah! Ah! Merda, merda Ho sbagliato il tempo Sì! Gufo di merda Ok, facciamo passare L'effetto di questa schifezza Che mi ha messo addosso Ti prego il cazzo Ma veramente Gli ho dato tutti sti colpi Via, via Ti prego la Buono così Questo cazzo di veleno Mamma mia che bordata questa Non è Ok, 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 calmi, calmi, calmi Mi ha avvelenato Che palle Tutto avvelenato qua per terra Che palle Sììì un scontro molto lungo non è il più tecnico di Sekiro però è quello più snervante cioè il tempo che devi stare concentrato è tantissimo sta battuta viene recitata mamma mia la morte dell'ombra mi ha insegnato bene sta uccidendo suo padre la morte dell'ombra il grande shinobi il gufo era il padre adottivo del lupo il sempre in fiore è un albero di ciliegio e come tale è colmo di nostalgia è probabile che in passato Takeru ammirasse i fiori di questo ramo ripensando alla sua casa lontana uno degli ingredienti dell'incenso cercato dall'erede divino per la recisione immortale abbiamo fatto un buon lavoro con il lupo cioè con il lupo con il gufo migliora la forza d'attacco subito e vediamo se abbiamo anche non ho i grani del cazzo però vediamo che cosa abbiamo migliora il farmaco va e possiamo andare al piano di sotto a riabbracciare Kuro ed Emma hai incontrato lo scultore di recente? si mostra so solo quello che Dogen mi ha detto tempo fa il retaggio del drago conferisce il potere della resurrezione ma non è un potere qualsiasi l'uso ripetuto porta alla stagnazione che prima o poi raggiunge il punto in cui trabocca questo fa ammalare chi non possiede il potere lo chiamano mal del drago sapeva moltissimo a riguardo ma anche così non è riuscito a trovare una cura perdonami c'è un modo per curare questo mal del drago? non saprei ma deve essere fermato non ne sono certa ma innanzitutto devo studiare le ricerche del mio mentore per cercare un modo ok i semi di zucca li abbiamo finiti consegna al bevanda non ancora poi vediamo lupo mi risollevo a vedervi sano e salvo e il gufo? l'ho ucciso oh mi spiace lord Kuro mi spiace ho fatto ciò che dovevo lupo? grazie mio padre questo era in suo possesso questo ramo viene dal sempre in fiore capisco quindi l'aveva il gufo sempre in fiore la di Emma ne parlava una volta il sempre in fiore è un ciliegio portato qui dal regno celeste da lord Takeru un tempo fioriva dietro il castello ma quando venne reciso un ramo e vennero sottratti i fiori il sempre in fiore col tempo appassì e morì quindi è questo il ramo? sì credo di sì siamo più vicini all'incenso della sorgente sì sì proprio così lupo devo restare vigile lupo ho fatto dei progressi sono certo che sia l'ultimo ingrediente del sentore quale sarebbe? il sangue dell'erede divino del retaggio del drago in altre parole il mio sangue bene il nostro sangue ma sire voi non sanguinate? sì è vero chi appartiene al retaggio del drago non sanguina ma nelle stanze di lord Genichiro ho trovato uno strano diario appartenuto al paggio di lord Takeru a quanto pare c'è un modo per farmi sanguinare per il momento ti chiedo di conservare questo per me diario del paggio di Takeru ha messo il braccio sull'incensiere e ha provato a tagliarlo con la spada ma incredibilmente la sua ferita è guarita all'istante e non una goccia di sangue è stata versata Lady Tomoe ha detto senza quella il tuo sangue non può essere versato ora dobbiamo solo capire come farmi sanguinare eh la lama mortale ce l'ho come cerusico senz'altro conosce bene il corpo umano sì forse è in grado di aiutarci scus come faccio a sanguinare sì di cosa si tratta? è possibile far sanguinare l'erede divino? e perché mai vorresti farlo? il sangue dell'erede divino è necessario per ottenere le lacrime di drago dal regno celeste ed eseguire la recisione immortale oh capisco è vero non esiste un modo normale per versare il sangue dell'erede divino ma tu possiedi lo strumento necessario la lama mortale sì eccoti qua col mio sangue il sentore sarà completo il regno celeste arriverà la recisione immortale sarà portata di mano devo chiedere a Tomoe di aiutarmi con la decapitazione questo ha scritto Lord Takeru proprio così con la lama mortale potrai ferire l'erede divino e versare il suo sangue capisco con questo siamo un passo più vicini alla recisione immortale lo riferirò al mio Sire certamente vabbè non è che devo riferirlo devo tagliarlo Sire ho trovato il fiore per il sentore della sorgente ah sì sbocciava davvero nella forra? sì nella parte più profonda quindi è lì che si raccoglievano le profonde acque della sorgente sei stato bravo a trovarlo lupo Sire mi sono procurato gli ingredienti per il sentore ah quindi è questa la pietra per l'incenso della sorgente che forma bizzarra sì ne avevano fatto una sorta di santuario quindi è proprio come ha scritto Lord Takeru sì c'era anche un'iscrizione un dono di nozze dal dolce profumo riportata sull'altare di nozze? che genere di luogo era? era in una grotta dietro una porta di solida roccia in questo caso dov'era diretta la bruciazione nuziale? immagino che non lo sapremo mai dal dolce profumo Lord Kuro quella potrebbe essere la via per il regno celeste cambiato l'audio di lupo dal dolce profumo cioè avvolto dall'incenso della sorgente forse si riferisce a questo lupo la spada che porti sulla schiena è è la lama mortale la spada che uccide anche chi non può morire sì me l'ha data la fanciulla celeste delle acque del ristoro presso il tempio Senpù eh va bene la fanciulla celeste delle acque del ristoro i monaci del tempio Senpù hanno abbandonato la via della fede per inseguire l'immortalità e hanno creato delle persone con un falso retaggio del drago ossia i fanciulli celesti delle acque del ristoro un falso retaggio del drago non avrei mai pensato che aspetta fanciulli celesti sì ne sono stati creati molti ma uno solo è sopravvissuto l'ennesima dimostrazione di come questo potere corrompa gli uomini i vincoli dell'immortalità devono essere recisi sì sì e va bene lupo hai parlato con Lady Emma? sì e allora che cosa ha detto? che è possibile con la lama mortale capisco quindi la lama mortale può avversare il mio sangue sì sire dovrebbero essere tutti gli ingredienti necessari per il sentore lupo brucia l'incenso come desiderate mio sire lupo la lama mortale non temere sarà un taglio superficiale potresti sguainare la lama mortale dal fodero sì sire perdonami ma chiudi gli occhi sì sire non gli andava di fare sta animazione qui a FromSoftware ora è finita lupo siete ferito gravemente sto bene è solo un taglietto sul torace è così questo è l'incenso della sorgente scatena una potente nostalgia capisco allora noti qualcosa di diverso il sentore il palazzo della sorgente ho quelle parole incise a fuoco nella mente il palazzo della sorgente è proprio come ha scritto Lord Takeru quel luogo deve condurre al regno celeste ma com'è possibile raggiungere il palazzo della sorgente? un dono di nozze dal dolce profumo era scritto sull'altare su cui era posata la roccia odorosa sì ora è il sentore dell'incenso della sorgente credo che il sentiero per il palazzo della sorgente si aprirà davanti a te se andrai al santuario nella grotta l'immortalità presto sarà recisa conto su di te lupo come desiderate perfetto abbiamo fatto tutte le nostre belle commissioni vi ho fatto sentire tutti 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 i dialoghi e non li sentivo anch'io da cazzo dalla prima run e ma devo dire che in quest'ordine il gioco è abbastanza chiaro è proprio semplice capire dove andare però mi rendo conto che alla prima run non puoi avere questa chiarezza in mente non puoi avere questa questa metodica condizione di avanzamento liscio anche solo capitare su un boss che ti caca il cazzo perché non riesci a buttarlo giù ti ti spezza il ritmo e la riflessione è normale questa è una delle sequenze più belle del gioco se non la più bella in assoluto secondo me a parte che questo è uno dei luoghi più fighi di Sekiro ma poi ok quel mostro è sempre stato lì quella cosa è sempre stata lì perché anche prima dal buco in alto nella grotta nuziale si vedeva quella mano si è sempre vista questa è una cosa ad alto tasso di fantasy proprio bellissima veramente una sequenza incredibile questa ti fa respirare l'enormità una cosa smisurata e non è solo la cutscene anche questa parte ti fa ti fa venire quasi il giramento di testa perché sei sospeso nel nulla su questo coso ok e adesso andiamoci ad affrontare la nostra cara monachella che per che per ok 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 No, via via No Ah, coglione Eh sì, ciao Eh, basta Sì Aspettate, ma mi ricordo che la monaca Ok Ah, merda Mamma mia No, no, no Non me lo ricordo il moveset di questa stronza Eh sì, ciao Cazzo Ragazzi, sto finendo tutte le fiaschette Oh sì Mamma mia Cioè, ho consumato quasi tutte le fiaschette Per ucciderla, sta zoccola Prega, domini dello suo, la monaca reale proteggeva il ponte che conduce al palazzo della sorgente Trofeo del Drago Ricavato da un grosso pezzo di Giada Chi lo possiede può acquistare un maggior numero di merci dalle botteghe dei mercanti Un oggetto molto apprezzato fra i mercanti Un'antica consuetudine impone che i membri del rango del Drago siano riconosciuti dal palazzo imperiale come mercanti supremi e ricevano il miglior trattamento possibile Non capirò mai perché questa roba ce la debba avere una cazzo di monaca, ma va bene E siamo al palazzo della sorgente signori Una delle zone più pericolose in assoluto di tutta Sekiro Shadows Die Twice Questa è un'avventura che conta tantissime zone pericolose, ma questa Questa ragazzi è... È terrificante Puoi morire per una cazzata Anche senza scontrarti con un nemico forte Basta uno stronzo di questi dietro un angolo e tu non lo sai Che fai una financia Va bene, ci vediamo al prossimo gameplay e ci facciamo il palazzo della sorgente